Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Continua la storia sacra, quattordicesimo episodio. Giuditta, la regina Esther. Giuditta. Il re di Babilonia aveva ordinato al più feroce dei suoi generali, Oloferne, di impadronirsi della Giudea. Oloferne iniziò la sua impresa assediando Betulia. I capi della città avevano già deciso di arrendersi. Ma ecco farsi avanti una santa e coraggiosa donna di nome Giuditta, la quale esortò i concittadini a pregare, certa dell'aiuto di Dio. Anche ella si ritirò a pregare. Poi si alzò decisa, si rivestì delle vesti più belle, e chiamata una serva, si recò al campo nemico. Oloferne e i suoi ufficiali rimasero incantati davanti alla bellezza di questa donna. Ella parlò loro della prossima resa degli ebrei. Oloferne le disse, «Se il Signore mi darà nelle mani il tuo popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Perché non c'è sulla terra donna simile a te in nobiltà e saggezza». E imbandì una cena in onore di Giuditta. Durante la cena Oloferne beve fino a ubriacarsi, poi si ritirò nella sua tenda e si addormentò. Era il momento buono. Giuditta entrò pian piano, staccò la spada, e dopo aver detto, «Signore, dammi forza in questo momento, vibrò due colpi e gli tagliò la testa». Chiamata quindi la serva, nascosero il capo in un sacco, «Gli abitanti di Betulia acclamarono l'eroina con grida di giubilo, poi uscirono ad assalire i nemici, i quali si diedero a precipitosa fuga. Tu sei la gloria di Gerusalemme, la letizia di Israele, l'onore del nostro popolo». Queste stesse parole noi le rivolgiamo ora a Maria Santissima, di cui Giuditta è figura. La regina Esther L'imperatore della Persia aveva conquistato la Siria e aveva dato agli ebrei la libertà di tornare in patria o di rimanere nell'impero. Molti rimasero. Tra questi un ebreo di vita intemerata di nome Mardoccheo. Egli aveva adottato una nipotina orfana di nome Esther. La fanciulla era molto bella e ricca di virtù. Il re Assuero se ne invaghi e la scelse per sposa. Lo zio vegliava continuamente sulla giovane regina, andava spesso a trovarla e le dava saggi consigli. Ma ben presto egli cadde nell'odio dell'orgoglioso ministro Aman. Costui pretendeva che tutti al suo passaggio piegassero il ginocchio e lo adorassero come un dio. Mardoccheo non volle. Non sia mai, o Signore, diceva in cuor suo, che io adori altri all'infuori di te. Il perfido Aman ottenne dal re un decreto che condannava morte Mardoccheo e tutti gli ebrei dell'impero. In tale dolorosa circostanza Esther si presentò al re in tutta la bellezza della sua regalità e gli disse tremando «Se ho trovato grazie ai tuoi occhi, o re, salva la mia vita e quella del mio popolo. Sì, noi abbiamo un acerrimo nemico che è pure nemico del regno». «Chi è costui?» domandò il re allarmato. Additando il cattivo ministro, la regina disse «Il nostro nemico è questo perfido di Aman». Il re ordinò che Aman fosse immediatamente appeso sul patibolo, revocò l'infame Editto e innalzò Mardoccheo alla dignità di suo primo ministro. Anche la regina Esther è figura di Maria. Sia lodato Gesù Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen